il baule delle meraviglie ha riportato alla luce un tesoro inestimabile dopo moltissimi anni di oblio insieme al costume ritrovato sono pervenuti anche gli splendidi gioielli di scena che facevano da corredo ai costumi indossati dalla principessa di gelo eseguiti dalla ditta corbella di milano fornitore ufficiale del teatro alla scala interpretano perfettamente il pensiero creativo del grande caramba la fastosa corona in stile orientale è un capolavoro di oreficeria per il teatro finemente arricchita con perle piume e bellissimi fiori nel baule è stato rinvenuto anche il frammento di un puntale anche questo splendido appartenente a una seconda corona vogliamo ridonare integrità a questi oggetti per montarli insieme ai costumi di scena e ricreare la visione orientaleggiante ed esotica immaginata da puccini e caramba no 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 Grazie a tutti.